Au, ma che gol ha fatto Hausen, 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 ma che stai a dire, ma che me stai a dire, ma che me stai a raccontare, ma che gol ha fatto Hausen raga, ma che gol ha fatto Hausen, ma che cosa è successo, ha fatto una partita Pessima Una partita pessima Una partita pessima Veramente pessima Hausen Brutta Aiutate ma di brutta Non è cattiveria È semplicemente La lingua Il linguaggio della verità Partita Ragazzi Hausen è So più le volte che è scivolato Veramente oggi C'è stava sempre per terra Che le volte che ha fatto le cose bene Ha sbagliato un passaggio Tutte Tutte cappelle Tutti errori Però Però Ma che gol ha fatto Hausen Allora E poi E poi E poi E poi E poi Non dire Amazon Se non ce l'hai nel Prime Tu non dire Amazon Non me lo dire Amazon Se non ce l'hai nel Prime Prima di iniziare però ragazzi Vi dico una cosetta Che è molto carina Guardate A quanti iscritti Siamo arrivati Ve lo faccio vedere Aspettate un attimo Ve lo faccio vedere Aspettate un attimo Guardate a quanti E' zoom E' zoom Guarda qua 499855 Regà manca pochissimo Mancano 145 500 mila Che cosa state aspettando Iscrivetevi A questo Canale Andiamo per gradi Andiamo per gradi Primo tempo Pessimo Primo tempo Forse la cosa peggiore Che io abbia mai visto In tutta la mia vita Ci hanno presa pallonate Meritavamo Proprio tutta la vita Di prendere gol Meritavamo di stare sotto Non abbiamo azzeccato Una cosa che fosse una Nel primo tempo E' stato Lo schifo Lo schifo Lo schifo Lo schifo Lo schifo Però Già nel primo tempo Derossi mi dà Un motivo Per guardare questa partita E per dirvi il mio punto di vista E cioè Innanzitutto che gioca Svilar Per Rui Padrisio Oggi ragazzi Ma che gli vogliamo dire A Svilar Nel primo tempo Se la Roma Chiude avanti E soprattutto Se la Roma non chiude Che sta sotto di tre gol E' perché Svilar para anche le madonne Qualcuno dagli spalti Lanciava le madonne Le lanciava Tutte così Belle Belle tese E Svilar parava anche quelle Ma poi in generale Ora io penso che a giugno Si debba prendere un portiere nuovo Uno forte Uno pronto Però se devo scegliere Tra far giocare Svilar E Rui Padrisio Con tutto il rispetto Rui Padrisio Non c'ha più quella Verve Non c'ha più quella 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 capacità di Reagire rapidamente Non ha più quella reattività Ecco la parola giusta È reattività Basta Scarichiamo Cambiamo Che giochi Svilar Poi farà delle cappelle Ma tanto le fa anche Rui Padrisio Piuttosto facciamo giocare Svilar Poi Un altro Elemento Da discutere E' Paredes Oggi Paredes E' fondamentale Paredes per De Rossi E' diventato fondamentale Sapete il mio Il mio non Apprezzamento viscerale Per Leandro Paredes Lo conoscete Non sapete cosa ne penso Però Oggi Paredes E' fondamentale E da quando c'è De Rossi Sulla panchina Tutte le partite di De Rossi Paredes è stato fondamentale Per quello che fa E un pochino forse Ne sta risentendo Cristante Vi dico la verità Lo vedo un po' in difficoltà Brian Cristante In quello che appunto Ha il suo percorso Di equilibrio In mezzo al campo Forse perché i suoi ruoli Li ha presi tutti Paredes Però fa quel Fa quel lavoro lì Di Cerniera Che è fondamentale Sulla mediana Ma veramente fondamentale E poi davanti Cioè se mi avessero detto Giocheranno davanti E il Sharawi Amazon sulla tre quarti Baldanzi Con Lukaku punta Non gli avrei mai creduto E' chiaro che E' un po' arroccato Perché voleva De Rossi far riposare qualcuno Per l'Europa Quindi ha lasciato fuori Di Bala Ha lasciato fuori i Pellegrini Qualcuno è rimasto fuori Poi Lukaku ha fatto un tempo Sostanzialmente E quindi va bene Però C'era Baldanzi Adattato alla destra C'era Amazon titolare Ora ci arriviamo Su Amazon titolare Ci ha dato i 449 milioni di cose Quindi mo' ci arriviamo Ma Rimaniamo su di noi Poi sulla destra gioca Christensen Invece che Selic e Kasdorp Sulla destra ragazzi Abbiamo una disponibilità Che è pari Non lo so A quella economica Del mendicante Sotto casa Di un mio amico Della Roma Creator Quindi Cioè Di che andiamo a parlare Di che dobbiamo parlare E lì Lì ci sono quelle problematiche Là E va bene così E va bene con là Però Già meglio Christensen Christensen non fa un cazzo Non va mai in verticale Non fa nulla Però quantomeno Non mi fa a dannare Come fa a dannare Ma sia lì come fa a dannare Karsdorp Quindi mi va bene Christensen Frosinone ragazzi Nel primo tempo gioca bene Il Frosinone gioca bene Il Frosinone è una falsa Non Con una falsa squadra Da salve Da retrocessione Che lotta per non retrocessione Il Frosinone ragazzi Gioca a pallone Ci ha fatto una capoccia Tanta Sono contento di vedere Angelinio titolare Angelinio deve giocare titolare Angelinio deve giocare titolare Perché è il terzino sinistro Più forte Il terzino più forte Che ci abbiamo in assoluto Nei primi sei minuti Ci siamo fatti addirittura Schiacciare In un modo assurdo Non abbiamo toccato un pallone Poi devo dire che Ho visto Baldanzi da Ala Poi è diventato anche Trequartista dopo Ha delle belle idee Ha un'ottima visione di gioco Però deve crescere È un po' come Bove Cioè Baldanzi e Bove Devono crescere In pace In tranquillità Con una Nonchalance Ok Se devono impegnare tanto Devono mettercela tutta Però mettergli pressione Non avrebbe senso Bove e Baldanzi Possono essere il futuro della Roma Ma devono esserlo Con calma In pace Quindi mi va bene così Paredes ve lo dicevo Fulcro Paredes Fulcro Fulcro De Rossi continuava a parlargli Cioè De Rossi la maggior parte Delle volte che andava a parlare Con qualcuno Andava a parlare con Paredes Gli diceva cosa fare Gli diceva di Che ritmi avere Gli dava i ritmi Gli dettava i ritmi Della partita Questi sono tutti aspetti Che ti fanno capire Quanto Paredes In questo momento Sia fondamentale Quindi A me lo sapete Non è che Paredes Sia il mio preferito Non è che Paredes Mi sia simpaticissimo Però se dobbiamo parlare Di pallone Io ti fò Roma Vi dico Se per De Rossi Paredes è un giocatore fondamentale Mi va bene così Lo è anche per me Ok quindi va bene Poi soprattutto Se Paredes non fa delle cappelle Perché con Mourinho Faceva delle cappelle Che sembrano veramente Quelle per affrescare La cappella Sistina Adesso sta cambiando qualcosa E sembra che Con De Rossi Sia molto più sicuro di sé Sia molto più tranquillo E soprattutto giochi Con della leadership Che in passato Mancava La Roma Parte malissimo Nei primi 15 minuti Facciamo una sola occasione In cui Lukaku Tira addosso al portiere Siamo super schiacciati E poi vi parlavo di U Hausen Perché? Perché Hausen Sblocca la partita Fa un gol Ragazzi Magistrale Il gol di Hausen È magistrale Cioè Prende palla Vola verso Verso il centrocampo Quindi disimpegno Ne punta uno Lo scarta Calcia Giro Sotto l'incrocio Dei pali Ma che cazzo Anzi all'incrocio Dei pali Ma che cazzo Sta succedendo Cioè sono rimasto Tipo Ma davvero Ma davvero 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 Cioè per me Era una cosa Veramente Incomprensibile Tolto questo E detto ciò Però a Hausen La partita non è sufficiente Ora È sufficiente Che ce la sblocca Senza il gol di Hausen Ragazzi oggi perdevamo Io lo dico proprio Con grande chiarezza Con limpidezza Non mi vado a raccontare Senza il gol di Hausen Oggi la Roma perdeva Però Però oggi Hausen Non ha fatto una partita sufficiente È uscita a fine primo tempo Ma perché In un'azione addirittura Ha regalato il pallone Lo ha recuperato Benissimo E poi è scivolato In un'altra Ha fatto un passaggio in orizzontale Per poco prendevamo gol In fase difensiva È disastroso In fase offensiva È un'altra cosa E va bene così Sule Mamma mia ragazzi Sule Prima cerca di piazzarla Sule è fortissimo Sule è un fenomeno Sule è un giudatore clamoroso Prima cerca di piazzarla Tira fuori di pochissimo E poi Poi Svilar fa un miracolo Su un pallone a giro di Sule Che non so manco Come lo abbia fatto E nel primo tempo Ero incazzato Perché loro pressano Noi fermi Immobili Perdiamo una marea dei palloni Non sappiamo Tenere i ritmi Ve lo giuro Mi stavo incazzando Non poco Sulle seconde palle Sempre Per terzi Non c'era una volta Che sulle seconde Ma manco per secondi Veramente Sulle seconde palle Non c'era una volta Che riuscivamo a prendere Quelle dannate palle Infatti mi stavo incazzando Poi va detta anche Un'altra cosa Che per fortuna C'è un giocatore Tale Caio Giorghe Che io reputo Un buon giocatore Però ragazzi Ma quanti palloni Se mangia Caio Giorghe Quante cose Magna Caio Giorghe Cioè Veramente In un'occasione Se ne ha mangiato Tre in un'occasione E lì mi sono incazzato Perché io dico Alla Caio Giorghe Già che è in area di rigore Da solo Che cazzo sta facendo Caio Giorghe In area di rigore Da solo Ma vabbè Vabbè Tira addosso A svilar che fa una parata Gli torna la palla Perché gli torna la palla Dov'è la gente Che dovrebbe pressarlo Dopo che è arrivato In ritardo la prima volta Tira addosso a Mancini Gli ritorna la palla E alla me sta più a per culo Tira di nuovo fuori Ma io dico Ma può tornare tre volte Il pallone a Caio Giorghe Poi per fortuna Non segnava manco Con le mani oggi Caio Giorghe C'è avuto un'altra dieci occasioni dopo Va bene così Mi va bene così Però lì Santi Dio stai più attento Fatto sta però Che Andiamo avanti 1-0 Fa un euro Regà Uisen Fa un euro Gol Che te dico Fermati Che te dico Fermati Poi Fai il silenzio A tutti quanti Perché lo fischiano Da inizio partita E viene ammonito Ci sta poi viene tolto A fine primo tempo Forse anche un po' Fai i cambi Toglie Lukaku per Pellegrini Quindi mette Amazon prima punta Meno male perché da seconda punta Oggi non si può davvedere Perché comunque tra tre giorni Giochiamo col Feyenoord Una partita importantissima in casa E poi Leva anche Ausen Forse perché era ammonito Era nervoso Non capisco i tifosi del Frosinone Nulla contro il Frosinone Però santi Dio Ma non riesci Cioè Lo fischiavano L'hanno fischiato E insulto all'inizio della partita Perché ha scelto la Roma Invece che il Frosinone In prestito secco A parte che non è che Il Frosinone Visto che ha tutti i prestiti secchi Deve prendere tutti i giocatori Che vogliono andare in prestito secco Non è che c'è scritto da qualche parte Però tolto questo Cioè Comunque ragazzi Ma non scherziamo proprio Cioè Voi che avreste scelto Tra una squadra come la Roma Che lotta per andare in Champions Ma magari non ci arriva E fa l'Europa League E il Frosinone Che si deve salvare È chiaro come Se fai il titolare di qua E fai il titolare di là È meglio che giochi Con la Roma Cioè È come se mi dicessi In prestito secco Tra Roma e Real Madrid Titolare di tutti e due In dove vai? È normale che vai a Real Madrid Do cazzo vai alla Roma? Cioè È normale che sia così Dal mio punto di vista Fatto sta che lui poi Ha perso la testa Ha zittito tutti Va bene Comunque un 2005 È piccolo Va bene così Nel secondo tempo Io non so se Di Francesco non ha perso Le buone abitudini E quindi ha fatto sentire Baby Shark Nello spogliatoio Ma io ho detto Ma che gli siamo andati avanti Così in modo super immeritato Probabilmente Entreranno con una cattiveria Tale da Spaccare tutto Invece no Invece no Nel secondo tempo ragazzi Non hanno combinato nulla Abbiamo giocato benissimo noi Li abbiamo devastati Abbiamo mantenuto sempre Il pollino del gioco Abbiamo impostato Loro hanno difese bassa Erano bassissimi Non hanno capito nulla Ecco il primo tempo È stato probabilmente Il peggior tempo Della Roma di De Rossi Da quando c'è De Rossi Nel secondo si è vista La solita Roma E a me mi ha fatto Molto molto piacere A un certo punto Ci volevo svilare Mi sono cagato addosso Però ho tolto questo Poi arriva il 2-0 Di Amazon Su ribattuta Che tra l'altro Ho scoperto Ripeto Non dire Amazon Se non ce l'hai nel Prime Ho scoperto Che questa era la prima Da titolare Con la Roma di Amazon Santi Dio Murigno Poi dice uno si incazza Possibile Possibile che Amazon Ancora non è riuscito A fare una partita Da titolare E tu te lamentavi Perché Non avevi abbastanza giocatori Cioè veramente Stavolta mi fa incazzare Ma comunque Asmund A parte gli scherzi Ha sempre fatto benissimo Alla Roma Sempre fatto benissimo Quindi Di che dobbiamo parlare Dai Ma non scherziamo proprio E oggi Te la chiude lui Su ribattuta Ma lì Devi essere prontissimo Come fai a pensare Che il portiere Te la dia proprio Lui era già partito Prima del tiro Era già partito Bravo E poi arriva il 3-0 Rigore nettissimo Perché Ocoli Non so perché Diceva braccio L'arbitro diceva braccio Attaccava il corpo In realtà era larghissimo Il braccio Mano Calcio di rigore Dal dischetto Va Paredes Si prende anche Quella responsabilità Ecco anche Sotto questo punto di vista Paredes sta crescendo tanto A livello mentale Non possono essere contenti Si prende quella responsabilità Calcio di rigore Spiazza il portiere Ed è 3-0 Quindi bene così Poi due cose voglio dire La prima è che sono Veramente contento Perché De Rossi Sta puntando fortemente Su El Sharawi Se lo merita Ha sempre dato tutto Non ho mai capito Perché El Sharawi Non è mai stato fatto Giocare con continuità Quando se lo merita E quindi va bene così L'altra è che oggi La Roma È riuscita a varare Modulo in corsa Più volte Partita col 4-2-3-1 È passata al 4-3-3 Chiuso col 3-5-1-1 Questo significa anche Riuscire a gestire I calciatori che hai E I vari I vari tasselli In campo In base alla partita Che stai giocando Quindi è simbolo E sinonimo di maturità Alla fine abbiamo visto Anche Smalling E Awara Ma per terzarcofago Sono usciti tutte e due Non me lo sarei mai Creso Direbbe un ignorante Lo dico anche io Bene Smalling che torna in campo È qualcosa di clamoroso Mi auguro che per questa Finale di stagione Possa rivelarsi Fondamentale Fatemi sapere La vostra Forza Roma Dai Iscrivetevi al canale Io vi ringrazio Tantissimi piace Buo ce lalala Ciao